Potrò fare come gli youtuber quelli bravi e potrò dire io questo video non volevo farlo perché io questo video non lo volevo fare L'analisi tecnica, l'analisi economica legata ad Arcadius Mili che proprio l'avrei evitata volentieri Ma siamo qua, siamo in ballo, balliamo dato che l'abbiamo fatta bene o male con tutti i profili accostati alla Juventus E quindi tuffiamoci di testa all'interno di questa nuova avventura Prima di iniziare però ragazzi vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete il link per scaricare numero 10 Che cos'è numero 10? È un'applicazione nuova, fresca, fatta da giovani, per giovani ma non solo Nella quale collaboro anch'io, infatti alcuni video post partita non li troverete sul canale ma li troverete sul numero 10 Ve lo dico subito, quello di Juventus Spezia non sarà sul mio canale, bensì sul numero 10 Sto scrivendo articoli, ricorderete perché sto cercando di prendere il patentino al giornalista e i miei articoli escono sul numero 10 E poi inserendo la vostra squadra del cuore al download avrete pure la possibilità di vincere alcuni premi Come delle magliette che verranno messe in palio per la vostra squadra del cuore Quindi vi aspetto assolutamente e direi che possiamo passare a Google Chrome e quindi andare a vedere la schermata di Arkadius Milik Allora ragazzi, chi è Arkadius Milik? Intanto ha un nome che sembra una bestemmia Può tornare utile alla Juventus di Allegri 2022-2023 La stranaria polacco, nato il 28 febbraio 1994 Ha vinto una Coppa Italia con il Napoli contro la Juve nel 19-20 La ricorderete, la Coppa Italia subito post pandemia Quella del Covid, una delle prime partite che è stata giocata Il primo trofeo post Covid che abbiamo perso in finale contro il Napoli È un calciatore mancino, alto 1 metro e 86 centimetri Tuffiamoci, andiamo a vedere Immergiamoci come diceva Chiera Caressa Perché si parla di Milik? E già qua è una domanda alla quale non vorrei dare una risposta ma dobbiamo darla Mancano soltanto 8 giorni alla fine della sessione estiva La Juventus è ancora indietro, una costruzione rosa Manca appunto un vice Vlaovic Manca un centrocampista davanti alla difesa Dato che a quanto pare la volontà di Allegri è avere un regista vero e proprio Quindi il nome di Paredes di cui abbiamo già parlato anche nel video di ieri sera Mancherebbe un terzino sinistro Manca sfoltire a livello di centrocampo Dato che ci sono tanti giocatori Insomma mancherebbe volendo pure un centrale titolare mancino Forse qua stiamo andando ad esagerare Forse addirittura un esterno offensivo a livello numerico Però rimaniamo abbastanza con i piedi per terra Depay avrebbe avanzato una richiesta di ingaggio ritenuta eccessiva Da parte della Juve che ha soldato il terreno con il Marsiglia E quindi eccoci qua e Milik potrebbe tornare appunto in Italia E allora Arcadius Milik quale posizione occupa? Presenza e rendimento per stagione? Infortuni? Costo? Dove giocherebbe la Juventus? E fattibilità? Ci sarà una novità perché mi avete chiesto di aggiungere alcuni dati E quindi nei dati ci saranno alcune piccole novità Andiamo subito a vedere il ruolo di Milik Quale posizione occupa? Abbastanza scontato no? È una prima punta mancina Sa disimpegnarsi anche come seconda punta o ala Secondo Wikipedia soprattutto a destra Possiede un tiro potente e preciso Che gli consente di essere un ottimo finalizzatore Anche sui calci di punizione ed è molto abile nei colpi di testa Allora io Milik ala Devo essere onesto e essere sincero Io di Milik ho visto veramente tante partite Ma Milik ala non me lo immagino Uno non l'ho mai visto E due non me lo immagino Non penso che possa fare l'ala destra Non mi sembra il calciatore adatto per giocare in quella posizione Come seconda punta magari qualcosina in più lo può fare Però immaginarmi un attacco a due Vlaovic più Milik mi sembra abbastanza pesante Quindi credo che possa essere per definizione il vice Vlaovic Qui c'è la season heat map dell'anno scorso Al Marsiglia, il Ligan E ora andiamo a vedere un attimino Quelli che sono i suoi numeri inerenti all'ultima stagione Quindi i dati Presenza e rendimento per stagione Andiamo ad analizzare un focus principale sull'ultima E poi facciamo anche un piccolo confronto con Dujan Vlaovic Perché mi avete chiesto di inserire alcuni dati Mi avete chiesto gli expected goals Ma non sono stati dati che sono riuscito a trovare Quindi concentriamoci sui dati inerenti all'attacco Quindi 7 gol, una frequenza di 1 gol ogni 203 minuti giocati 0.3 gol a partita, 2.3 tiri a partita, 8 big chance sprecate, una conversione gol del 13% Un rigore segnato su un rigore tirato Quindi 100% di conversione sui rigori 2 calci di punizioni tirati, 0 segnati Quindi una conversione dello 0% 7 gol su 47 tiri all'interno dell'area di rigore 0 gol su 7 tiri da fuori area 2 gol di testa, 4 gol di mancino, 1 gol di destro E non ho idea di cosa sia penalty 1, non ne ho idea 23 partite disputate in Liga, 7 gol e 2 assist Un cartellino giallo, 1418 minuti giocati E poi 5 partite in conference, 4 gol 5 partite in Europa League, 4 gol 4 partite in Coppa di Francia, 5 gol Per un totale di 37 presenze, 20 gol e 2 assist In 2321 minuti disputati Sono numeri interessanti Perché comunque Milik ha segnato E non poco all'interno dell'ultima stagione Ha comunque raggiunto i 20 gol Che sono assolutamente numeri dignitosissimi Non ha giocato tanto Perché non lasciatemi ingannare dalle 37 presenze Ci sono stati solo 2321 minuti disputati Però stiamo anche parlando di un campionato Veramente di basso livello Come la Liga An in cui il PSG È forse una delle uniche squadre Che potrebbero mettere in difficoltà altre Poi non dimentichiamoci mai Che noi negli ultimi anni Siamo usciti comunque contro il Lione In Champions League È una cosa che deve sempre rimanere All'interno del nostro immaginario collettivo Milik ha reso molto bene All'interno delle coppe Come potete vedere Ha segnato veramente a raffica In campionato in realtà Non irresistibile Però ovviamente voi questi dati Potreste dire Sì ma Non mi vogliono dire niente Così allora facciamo un confronto Con l'ultima stagione di Vlaovic alla Juventus Anzi in Serie A in generale Tra Fiorentina e Juventus E i dati di Milik E quindi vi li metto qua C'è la contrapposizione Ve li potete vedere Non sto ad approfondire Perché vi ho già spiegato Come leggere i dati della tabella A sinistra abbiamo Vlaovic Quindi Vlaovic sotto Vlaovic A destra abbiamo Milik Quindi Milik sotto Milik Come potete vedere dal titolo Magari mettete in pausa il video E ragionateci sopra voi Tanto sono convinto Che potrete tirare delle conclusioni adeguate Infortuni Milik Tende spesso a fermarsi E qua si apre probabilmente Il vaso di Pandora Uno dei dubbi più grandi Inerenti ad Arcadius Milik Perché ragazzi Purtroppo stiamo parlando di un calciatore Che nel 2016-2017 Si è fatto il crociato Del ginocchio Mi pare il sinistro Il suo ginocchio naturale Che l'ha obbligato a saltare 23 partite con Napoli 127 giorni per recuperare Ritornato in campo Poi successivamente Nella stagione successiva Il 24 settembre del 2017 Si rompe l'altro crociato Qua non c'è scritto crociato Ma sono andato a leggere su Wikipedia Si è fatto tutti e due crociati Il destro e il sinistro Altri 158 giorni fuori Altre 29 partite saltate Sappiamo bene Cosa significa farsi un crociato Lo stiamo vivendo con Chiesa L'abbiamo visto con Zagnolo L'abbiamo visto con tanti altri calciatori Nel passato Purtroppo E non è l'unica cosa che Perché Dici Vabbè Si è spaccato un ginocchio Si è spaccato due ginocchia Succede Il problema è che poi Qualche altro problemino Continua a venire fuori Nel senso che L'infortunio allinguine L'infortunio muscolare L'infiammazione del ginocchio Il problema alla coscia Ancora il ginocchio Vabbè Il covid La rottura della fibra muscolare Qualche problema alla coscia Qualche problema muscolare Cioè Stiamo parlando comunque Di un calciatore Che nonostante Il ginocchio Quindi un infortunio Di tipo traumatico A livello muscolare Non è proprio impeccabile E proprio l'altro giorno Parlavamo degli infortuni Lato Juventus E facevamo una cernita Di quelle che sono state Le ultime stagioni E notavamo Una tendenza Della Juventus Dell'ultimo anno In particolare Ad accentuare I problemi muscolari Quindi sicuramente Già un giocatore Che non sta bene A livello fisico Lo inseriamo In un contesto In cui l'infortunio muscolare Va a colpire Anche magari i giocatori Che a livello muscolare In precedenza Avevano avuto Ben pochi problemi Ho paura Permettetemi un po' Di paura Quindi sicuramente Questa è una cosa Da tenere in considerazione Come possiamo vedere Nella stagione 2021-2022 Quindi l'ultima disputata Un buon numero di partite Sono state Purtroppo saltate da Milic E questo spiega Il perché È rimasto A soltanto 2000 e rotti minuti Disputati Nonostante Un buonissimo score E nonostante Un campionato In cui dovrebbe mettersi Davvero in luce Per le sue caratteristiche tecniche Perché Milic Rimane comunque Un buon attaccante E per la Liga Penso che possa essere Considerato un ottimo Attaccante Andiamo leggermente avanti Valutiamo anche il costo Cartellino e stipendio Allora Contratto in scadenza Al 30 giugno 2025 Milic Fino adesso Ha giocato 131 minuti In tre partite di Liga Ha ritenuto probabilmente Non più indispensabile Da Igor Tudor Allenatore del Marsiglia Dopo l'arrivo di Sanchez Svincolato dall'Inter Infatti Milic Ha disputato Da titolare Le prime due E poi è stato sostituito In tutte e due E la terza Non è nemmeno entrato Con Sanchez titolare Ora Sarà per via Di qualche cosa Legata al mercato Come poteva essere Paredes Depay Può essere Può essere benissimo Però in tre partite 131 minuti E tra l'altro Non ho ancora trovato La via del gol Sono numeri Che forse Ti fanno dire A Igor Tudor Magari Serve più un giocatore Come Sanchez Lì davanti Piuttosto che uno come Milic Non ne ho la più palla di idea Questo magari Me lo direte voi Se siete appassionati Di Ligano O tifosi del Marsiglia Il valore attuale Il cartellino Non è troppo elevato Perché secondo Transfer Market È di 16 milioni di euro Addirittura il Marsiglia Lo lascierebbe andare In prestito oneroso Di 2 milioni Con diritto di riscatto Adotto Che Parlando proprio Papale papale Fuori dei denti È una condizione Ottima Per la Juventus Perché pagherebbe Semplicemente I 2 milioni Al Marsiglia Per prenderlo in prestito E poi potrebbe Non riscattarlo Perché non c'è l'obbligo Bensì il diritto Quindi a livello Dell'operazione I canoni Non sono nemmeno Terrificanti Perché la Juve L'anno prossimo Potrebbe benissimo Semplicemente dire No grazie A marzo 2021 Lo stipendio di Milic Risulta essere di circa 3.7 milioni Di euro a stagione Il che È abbastanza alto Non è un ingaggio Da poco La Juve Può offrire poco Meno dello stipendio Attuale E quindi una percentuale Potrebbe essere pagata Dai francesi Beh io credo proprio Di no Credo che il Marsiglia Vada a dire A Juventus Vuoi Milic Ti paghi Milic Semplicemente Eventualmente Nel caso Milic potrebbe firmare Un rinnovo di contratto Con ingaggio spalmato Per permettere A Juventus Di dare un ingaggio Minore Ma Non credo Che sia disposto a farlo Perché se Se al Marsiglia Guadagni quella cifra Pensi Vado alla Juventus Almeno la mantengo Non dico L'aumento Ma la mantengo E 3.7 milioni di euro Stagione Comunque sono già Un buon ingaggio Addirittura il rischio Secondo me È che si possa arrivare Pure a 4 Ma soprattutto Si può risparmiare Sull'ordo Grazie al decreto Crescita Andiamo avanti Juventus Milic Dove giocherebbe La Juve Milic Sarebbe il vice Vlaovic La Juventus Alla ricerca Di un vice Vlaovic E forse pure Di un esterno Che possa giocare A destra A sinistra Il 4 3 Ma ci arriviamo Milic È un attaccante Un numero 9 E credo che Difficilmente Potrà essere utilizzato Da ala Vista appunto La presenza Di Moise Kenne Che sembra essere Più a suo agio Sull'esterno Quindi eventualmente Mi immagino Un Ken di rottato A destra A sinistra In caso di emergenza Come abbiamo visto Comunque Anche l'altra sera A Genova Contro la Samp Acquisto poco d'utile Indubbiamente Però è perfetto Per essere il backup Di Dujan Vlaovic Entrambi sono mancini Entrambi sono alti Dujan 1,90 Milic 1,86 Stiamo parlando Di meno di 5 centimetri Entrambi hanno Un buon tiro Acquisto in ottica Turnover Difficilmente Lo vedo titolare Quindi mi immagino Vabbè Ho messo Paredes Perché è un altro I quei nomi chiacchierati Io credo che questi 11 Con Vlaovic Al posto di Milic Siano i migliori Presenti in la Rosa Di Juventus Non so nemmeno Quante volte Vedremo questa formazione Purtroppo Dal primo minuto Devo dire la verità E quindi io Milic Lo inserisco Semplicemente In un contesto Di rotazione Per Dujan Vlaovic Credo che questa sia L'idea della Juventus Nell'andare a ricercare Milic Fattibilità Arriva per davvero Difficile utilizzare Il decreto crescita Dato che si parla appunto Di un prestito Con diritto di riscatto Ma soprattutto Milic Si è trasferito in Francia A gennaio 2021 Quindi non sono passati Due anni di lavoro All'estero E poi bisogna vedere Se Milic Ha spostato comunque La sua residenza fiscale In Francia O l'ha lasciata In Italia Io queste cose Non le posso sapere Quando andiamo Un po' troppo Nello specifico Comunque non sono passati Due anni E quindi per regolamento In teoria Non puoi Usufruire Di decreto crescita Correggetemi se sbaglio E quindi Io Rimango Sui 3.7 Anche se temo Che lo stipendio Milic Comunque possa andare Più in alto Considerando un triennale La sua scadenza È appunto Nel 2025 Quindi mi immagino Che la Juve Vada a ricalcare Questo discorso Da 3.7 milioni netti E senza decreto crescita Quale cifra otteniamo? 10 milioni in tre anni Quindi 8 più 2 Generano un ammortamento Del cartellino Di 3.33 a stagione Quindi questo lo sappiamo 10 diviso 3 Fa 3.33 Periodico 3.7 milioni di euro A stagione Senza decreto crescita Sono circa 6.066 Loardi a stagione Quindi facciamo la somma Milic Questerebbe La Juventus Circa 9.99 Facciamo 10 Dato che c'era il periodico Quindi 10 milioni di euro A stagione Per gli anni 29 30 31 Perché è un classe 94 Per 3 anni Quindi cerchiamo di ragionare Anche sotto il punto di vista Di Depay Perché Milica appunto Costerebbe la Juventus 10 milioni di euro A stagione Per 3 anni 30 milioni Depay invece Sembra saltare Per via delle richieste Sembra chiedere 8.5 milioni di euro All'anno Alla Juventus Con decreto crescita Senza Corrispettiva Per il Barcellona Perché lo lascerebbe partire Parametro 0 8.5 Con decreto crescita Sono 11.5 All'anno Che la Juventus Dovrebbe riconoscere A Depay Tra l'ordo e netto Milica in 3 anni Quindi la Juventus Costerebbe praticamente 30 milioni di euro E Depay sempre in 3 anni Costerebbe circa 33.15 milioni di euro A livello economico Meramente finanziario Le due operazioni Ragazzi sono molto simili Quindi se si andrà su Milica Sarà immagino Messo tra parentesi Perché Non voglio Sbilanciarmi troppo Ma immagino Che sarà Per ragioni Esquisitamente tecniche Quindi una preferenza A livello Del giocatore Impressione Questo è accessibile Per la Juve E il giocatore perfetto Per sostituire Vlaovic Durante il turnover A Torino Serve un vice Devo dire la verità Le condizioni fisiche Del ragazzo Mi preoccupano Non poco Io non sono Innamorato di Milica Probabilmente Questa cosa Ha influenzato Tutto l'intero Video analisi Conclusioni Preferirei Un profilo come Depay Perché ti offre Anche qualcosina Di più Sotto il punto Di vista delle opzioni Questa è un po' La mia opinione Ma ovviamente La mia opinione Ragazzi Non è Non è legge È soltanto un'opinione Quindi fatemi sapere Anche voi Che cosa ne pensate Se siete d'accordo Con questa cosa Se siete stupiti Anche dal punto Di vista economico Che le due operazioni Alla fine potrebbero essere simili Tutto quello che vi viene in mente E attendiamo Perché appunto Manca circa una settimana Una settimanina abbondante Una settimana e qualche ora Alla fine del mercato Io vi dico la mia Come ho già detto Comunque Su Twitter Su Instagram L'ho ripostato anche qua Su YouTube Nella sezione community Nel momento in cui Prendi Pogba e Di Maria Perché ti mancano Leadership e tecnica Tu stai mettendo La leadership e la tecnica Quindi il livello Dei calciatori Di fronte all'età Dei calciatori E alle loro condizioni fisiche Nel caso di Pogba L'età per Di Maria E condizioni fisiche per Pogba Pogba e Di Maria Sono due acquisti super Sono due campionissimi Hanno già scritto La storia del calcio E daranno Servono Serviranno Servivano Alla Juventus Quindi io non metto In discussione Questi acquisti Ma nel momento in cui Fai questi due acquisti E quindi devi prendere In considerazione Alcune cose Come appunto L'età La tenuta fisica Poi gli acquisti successivi Sul calciomercato Me li aspetto Con una botta Di freschezza Quindi giocatori Un po' più giovani Giocatori pronti Ad esplodere Non ricalcare ancora La falsa riga Di un giocatore Trentenne Magari come Kostic Che comunque Mi sembra un acquisto Intelligente Perché è integro fisicamente E che ha fatto Molto bene Negli ultimi anni Però se poi Andiamo a ricalcare Altre acquisti Come Paredes Milik O lo stesso De Pai Che comunque Hanno Un'età Molto vicina I 30 Prossima I 30 E sappiamo bene Che nel mondo Del calcio attuale A 30 anni Non sei vecchio Ma sicuramente Non sei nemmeno giovane Inizi ad essere Negli anni Clou di carriera Quindi Bisogna dare Il tutto per tutto Adesso Quindi veramente La Juventus Sta cercando Di creare Un instant team Ma soprattutto Dopo aver preso Appunto Pogba E Di Maria Che per forza di cose A livello Di numero di partite Non ti garantiranno mai Il massimo Milik E Paredes Quindi altri giocatori Che sono nomi importanti Che hanno già dato Ma che sotto il punto di vista Fisico Qualche carenza Ce l'hanno E quindi è per questo Che diventano Occasioni di mercato Beh fare un intero Mercato Orientato Sul nome Sull'occasione E sulla difficoltà fisica Secondo me è un grosso azzardo Secondo me è un grosso azzardo E arrivati Praticamente All'ultima settimana Di mercato È difficile Aspettarsi Chissà che cos'altro E quindi Credo che la Juventus Andrà su questi profili Secondo me è un rischio Ve lo butto lì Anche di questo Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti All'ultima settimana